Pronto? Pronto? Pronto, chi parla? Eh salve, guardi, la mia ragazza sta ricevendo chiamate da questo numero di telefono e vorrei sapere perché. Mi potrebbe dire chi è lei? No, no, intanto mi dica chi è lei che chiama con questo numero privato. Ah, non è stato lei. Dunque io sto chiamando direttamente dal suo telefono al numero da cui ha ricevuto la chiamata e mi ha risposto tu. Mi ripeto, qui... Mi stai dicendo che non sei stato tu? Potresti dirmi perché la chiamano? Intanto ho l'educazione di risponderle perché numero privato io non rispondo a nessuno. Guarda, questo mi sembra davvero troppo. Ho bisogno di sapere cosa sta succedendo perché se sta con un altro io non ne voglio proprio sapere nulla. Sparisco e basta. Da quanto tempo sta uscendo indietro? Visto che lei è così interessato, intanto si qualifichi chi è perché ho avuto l'educazione e la gentilezza di risponderle. Allora, senti, fa lo stesso. Sappi che Marta è una ragazza, diciamo, abbastanza, come dire, aperta, eh, che passa da una relazione all'altra con gente. Pronto? Chi parla? Eh, salve, guardi, la mia ragazza sta ricevendo chiamate da questo numero di telefono e vorrei sapere perché. Mi potrebbe dire chi è lei? La sua ragazza? E chi è la sua ragazza? Mi scusi, io sono una signora. Ma non è stata lei? Dunque io sto chiamando direttamente dal suo telefono al numero da cui ha ricevuto la chiamata e mi ha risposto tu. Ma chi è la sua ragazza? Mi stai dicendo che non sei stato tu? Dai, potresti dirmi perché la chiami? No, no, io sono una signora. E ma non so neanche chi è la sua ragazza? Ma guarda, questo mi sembra davvero troppo. Ho bisogno di sapere cosa sta succedendo perché se sta con un altro io non ne voglio proprio sapere nulla. Allora, sparisco e basta. Da quanto tempo sta succedendo insieme? Ma chi è questa ragazza? Se non mi dice il nome, io ho la mia amica Dina e io telefono. Allora, senti, fallo stesso. Satti che Marta è una ragazza, diciamo, abbastanza, come dire, aperta, eh, che passa da una relazione all'altra con gente di Tinder e spesso non viene a dormire a casa. Quindi se la cosa ti va, sei lito di condividerla con tutti gli altri. Allora, un attimino, io in Dando le posso venire, mamma, io sono una signora.